ciao benvenuto sul canale di italia mistero se non sei ancora iscritto ti invito a farlo questa è l'ultima puntata della storia di stefano bontate il principe di villa grazia siamo arrivati dunque al momento decisivo allo scontro finale fra riina e bontate e allora se sei pronto partiamo grazie a tutti grazie a tutti tra luglio ed il settembre del 79 i corleonesi fanno uccidere su mandato di ligio erina il poliziotto boris giuliano e il giudice cesare terranova gli omicidi vengono deliberati dalla commissione senza la partecipazione di bontate d'inzerillo ed intanto il bontate continua ad incontrarsi di nascosto con il posato badalamenti nel 1979 visto che lei era a conoscenza i rapporti di bontate con badalamenti come erano ma i suoi rapporti potevano essere clandestini certamente non in sintonia con cosa nostra perché lui era stato espulso io sapevo come ho detto dal bontate che ogni tanto si incontravano ma certamente riservatamente incontravano perché certamente avevano avuto una vita assieme alcuni mesi dopo viene deciso concordemente da tutta la commissione di cosa nostra l'omicidio di piersanti mattarella anche in questo caso bontate subisce una decisione cui non si oppone sapendo che ormai non ha più mezzi per bloccare i corleonesi l'unica strada per fermarli è uccidere reina dopo l'omicidio mattarella via un secondo incontro di stefano bontate con giulio andreotti che si svolge a palermo in una villetta intestata ad un inzerillo zio di salvatore cui marino mannoia assiste personalmente continua mannoia dopo circa un'ora sentimmo un clacson di un'auto e andai ad aprire il cancello era l'alfa romeo dei salvo una macchina blu che conoscevo molto bene nino salvo guidava ignazio salvo era accanto a lui andreotti dietro la macchina entrò andreotti scese dalla macchina e si scrutò attorno era vestito in blu non indossava né cappotto né soprabito gli indicarono la strada e lui entrò in casa la riunione durò circa un'ora da fuori sentivamo le voci di stefano bontate poi andreotti ai salvo uscirono salirono sulla macchina e se ne andarono bontate mi disse che andreotti era venuto per sapere il perché dell'omicidio mattarella e lui gli aveva risposto ma non lo avete capito ancora che qui comandiamo noi e se non cambierete atteggiamento vi leveremo tutti i voti e non solo quelli della sicilia ma anche quelli della calabria e dell'italia meridionale secondo bontate andreotti se ne era andato con la coda fra le gambe vengono denunciate 17 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti fra le 17 persone giovanni bontate avvocato fratello di stefano e gaetano badalamenti l'inchiesta aveva subito un'accelerazione con l'arresto l'anno prima da parte della dea di filippo tocco all'aeroporto kennedy di new york mentre portava con sé 600.000 dollari da scambiare con 21 chili di eroina buscetta ammesso al regime di semilibertà durante l'espiazione di un residuo di pena per il traffico di stupefacenti si allontana e raggiunge palermo un comportamento strano visto che ormai mancano pochi mesi alla fine pena comportamento certamente dovuto alla necessità della sua presenza a palermo per cercare di appianare le situazioni e meglio controllare gli avvenimenti in corso prima si incontra a roma con il suo capofamiglia pippo calò che non esita a stigmatizzare i comportamenti di bontate in zerillo e riccobono a palermo invece buscetta incontra bontate il falco gli profila la sua intenzione di uccidere salvatore riina unico modo secondo il bontate di riuscire a fermare l'ascesa corleonese bontate spera così che buscetta lo appoggi e anzi convinca anche calò a passare con lui bontate afferma anche di averne parlato con antonio salamone ricevendo da quest'ultimo la promessa di giustificazione ed appoggio in commissione della sua azione ma solo a riina morto pur avendo compreso che ormai il suo capofamiglia calò è completamente asservito ai voleri dei corleonesi buscetta realizza un incontro chiarificatore tra i tre all'autogrill pavesi in provincia di roma lungo l'autostrada del sole in quell'occasione bontate in zerillo calò apparentemente raggiungono l'accordo di consultarsi prima di partecipare alle sedute della commissione buscetta con bontate torna anche sulla questione dalla chiesa su questa idea di cosa nostra riguardante un attentato a dalla chiesa nel 1979 sì ricordo che io le chiese ma come come curiosità perché già era passato del tempo quando ci siano vissi con bontà credo che era passato qualche anno disse ma che cosa era la faccenda per la chiesa perché voleva far rivendicare lui mi rispose ma non parla non ne parliamo più è cosa passata ma comunque il fatto è che su della chiesa con i successi che ha ottenuto con le brigate rosse si sia montato un po la testa e sembra che voglia addirittura aspira delle grandi incariche magari a livello di presidenziale cioè che la montatura che si era costruito attorno generale della chiesa per il successo tenuto sui brigate rosse ha fatto sì che secondo alcuni ambienti politici non era più il caso che il generale della chiesa continuasse a vantare i successi ottenuti sui brigatisti quindi le ha detto che montate parlò di alcuni ambienti politici che avevano dato questa motivazione fu disse qualcos'altro o le disse qualcosa che la mise in condizione di capire qualcos'altro o no se devo dire la verità non mi ricordo perché io non ho nessuna curiosità in quanto a me non mi importava se il generale della chiesa diventava il presidente d'italia era una cosa che per me avevamo altre cose a cui pensare e quindi non ho chiesto e allora la domanda è montate parlò di un interesse della mafia si si lei e il bontà di ma anche badamente anni dopo mi disse che non c'era nessun interesse da parte mafiosa ad uccidere il generale della chiesa dopo l'omicidio del capitano basile ad opera dei corleonesi le indagini vengono indirezzate dal procuratore della repubblica di palermo gaetano costa verso il clan in zerillo con 55 denunce per la seconda volta dopo il caso di cristina la famiglia in zerillo subiva le conseguenze di omicidi voluti e portati a termine dai corleonesi per dimostrare di non essere in un angolo e di avere la forza anche egli di prendere autonome determinazioni al di fuori della commissione in zerillo ordina l'omicidio di gaetano costa ma l'effetto ottenuto è opposto poiché solleva reazioni negative in ambito mafioso tanto che calò parlando con buscetta afferma che in zerillo si è comportato da bamboccio angelo sino viene messo fuori dalla massoneria per avere insidiato la moglie di un confratello perché lei lasciò la massoneria mi viene molto difficile dirlo perché è una cosa che non gradisco molto comunque sono stato accusato di avere insidiato una signora moglie di un fratello massono le regole la massoneria sono affini a quelle della mafia quando uno insidia una donna di un altro adepito viene messo viene messo subito o fuori famiglia o espulso dalla massoneria io non sono stato espulso ma sono stato costretto a mettermi in sonno e praticamente peraltro io non avevo assolutamente insidiato la signora stavolta fu giustamente e praticamente poi a seguito di questa cosa anche il bontà del stefano mi chiamò e mi rimproverò aspramente perché l'incarico di coappertare questo signore nella massoneria che peraltro era un capitano medico colonnello medico della polizia praticamente mi era stato dato dallo stesso bontà ha detto cerca di metterlo vicino perché così lo possiamo usare in effetti non lo sai mai questo signore perché devo dire che il colonnello era una gentile persona una persona eccezionale mi dispiace quello che è accaduto ancora oggi per questo sono stato costretto a uscire dalla massoneria quando 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 fine diciamo è altamente una data precisa perché me lo ricordo perché fu un fatto per me scioccante fu intorno ai primi di settembre dell'ottanta io ritornavo avevo disputato la ventiquattro ore del Mugello arrivando l'undicesimo assoluto con una con una opel lascona duemila quando ritornai io telefonai al marito di questa signora chiamandolo affettosamente totò come io lo chiamavo lui mi disse che non dovevo più parlare con lui perché sapevo io il perché e di parlare con chi sapevo io io capì subito che c'era qualcosa che non andava infatti neanche il tempo di arrivare subito fui convocato sia da Michele Barresi che da Stefano Bontate prima da Michele Barresi da Stefano Bontate che Michele tra il serio e il faceto perché così per una certa nomea che avevo io mi diceva che ero sicuro che avevo insediato questa signora io non era così non era così ero molto arrabbiato perché questa signora ha fatto questo escamotaggio per fare in gelosia del marito solo per questo e successivamente fui chiamato a Stefano Bontate che con altra aria e anche con l'appoggio di Mimo Teresi mi disse che era meglio che per un certo periodo di tempo non ci vedevamo più chiaramente capì che questo era preparativo anche a una mia eliminazione fisica per cui armi e bagagli me le andai a Catania dove mi misi sotto la protezione di Nitto Santa Paola ancora rinassone obbligato e fece anche un altro passo mise al corrente di tutto Giovanni Brusca la questione del golpe, la questione della realizzazione primattivamente Giovanni Brusca mi prese con una certa beneficio pensava che quello che gli dicevo io era un po' esaggregato poi quando vide che ci scoppiò il fatto che vide che c'era sul giornale scoppiò il fatto di Sindona tutte queste situazioni naturalmente disse che ne aveva parlato subito col padre quando io feci le mie dimostranze per il fatto che c'era il pericolo di essere assassinato Bernardo Brusca mi mandò a dire con Giovanni Brusca che a me mi aveva piaciuto ristare con i palermitani cioè a me mi piaceva stare con i palermitani cioè non stare con le persone che erano vicine per questioni di campanile con le persone di San Giuseppe Iato a me e ora pigliati Cristo e ora prenditi questo comunque mi disse di stare tranquillo perché non mi sarebbe successo niente ancora di più mi spaventai ancora mi sono spaventato di più perché pensavo che anche loro potessero farmi del male l'unica cosa che ho fatto mi ritirai a Catania dove stiedi fino quasi all'84 Catania intende Sigonella Sigonella ma Sigonella non le era stata suggerita come investimento da bontade però chiaramente tutto il fatto che era accaduto annullò ogni situazione ogni cosa perché praticamente dopo questo fatto io sono stato non ho parlato più con bontade l'ho visto solamente a Mazzara del Vallo a Campobello di Mazzara dove lui aveva una proprietà entrai in una trattoria e lo vedi insolitamente solo lui mi chiamò dice ma che sei ancora seccato non mi disse proprio così e ci sei certamente che sono ancora seccato tu hai creduto mi esprisci con un'espressione un po' pesante nei confronti alla Signora non hai creduto a me mi disse di sedermi con lui mi cominciò a dire dice io sono stato rovinato mi cominciò a parlare male di Mimmo Teresi di Giacomino perché lui diceva che questo fatto che Sindona era venuto in Sicilia tutta questa situazione gli aveva creato una serie di guai con chi gli aveva creato una serie di guai e con gli altri esponenti mafiosi lui non sapeva che io avevo messo al corrente tramite Giovanni Brusca gli altri esponenti mafiosi devo dire che sono stato anche poi interrogato su questa cosa cioè l'ho interrogato da Giovanni Brusca che mi disse ora me l'ha contato che è giusta per filo o per segno perché io ne devo riferire a chi di competenza sì e glielo raccontò certamente Giovanni Brusca fece qualche commento eh? Giovanni Brusca fece qualche commento in esito al suo racconto no no praticamente ha detto che l'avrebbe raccontato a chi di competenza e basta a Villa Grazia prende fuoco un vecchio casolare ufficialmente adibito a deposito di oli e combustibili in realtà è una raffineria la terza scoperta nel giro di tre settimane dopo quelle di Sant'Onofrio e Carini ma questa volta la scoperta è casuale un cortocircuito una scintilla dell'impianto elettrico ha portato all'incendio del casolare all'interno del quale polizia e vigili del fuoco intervenuti hanno rinvenuto a lambicchi, fornelli, ampolle e non è sfuggita la polvere bianca sul pavimento che ha portato al rinvenimento di più di un chilo di morfina base a pochi metri dal casolare la polizia prende di sì all'abitazione di Giovanni Bontate nel corso del 1980 vengono scoperte le raffinerie di eroina di via Villa Grazia e di Contrada Piraineto di Punta Raisi gestita da Gerlando Alberti dopo la scoperta delle raffinerie le quotazioni dell'eroina raffinate in Sicilia scendono perché diventa troppo pericoloso investire nella produzione sul posto le più importanti famiglie mafiose sono costrette a ridisegnare la mappa del traffico degli stupefacenti per trovare itinerari e combinazioni più favorevoli e anche l'occasione per la resa dei conti e l'instaurazione di nuovi rapporti di forza all'interno della mafia come spiega il giudice Giovanni Falcone vengono utilizzati laboratori ubicati negli stessi paesi produttori della morfina base in Turchia, Libano e soprattutto Thailandia nel cosiddetto triangolo d'oro funzionano decine di raffinerie di eroina con una produzione da calcolare nell'ordine delle tonnellate l'impresa mafiosa entra in gioco in una fase successiva estremamente redditizia e meno rischiosa quella della commercializzazione del prodotto una scelta che offre alla mafia la possibilità di seguire con maggiore attenzione le esigenze del mercato e di sapersi adeguare ad esse ora questa possibilità di scelta diventa appannaggio dei gruppi più potenti mentre gli altri subiscono un duro colpo probabilmente il denaro in circolazione per quest'ultimi non è più abbondante come prima mentre i conflitti per impossessarsene diventano violentissimi scompare vittima della lupara bianca Giuseppe Panno vecchio capo famiglia di Casteldaccia uno dei pochi sostenitori ormai rimasti al bontate nonostante l'ospitalità ottenuta da bontate presso i salvo e le offerte di rimanere da parte di Calò pronto a offrirgli cospicui guadagni Tommaso Buscetta nei primi giorni del mese lascia Palermo per tornare in Brasile certamente ha intuito quello che sta per accadere Senta, e quale fu il suo ruolo all'interno di questa seconda guerra di mafia? Il mio ruolo fu quello di consigliare a Stefano Bontà di demordere dall'opinione di fare fuori Riina perché lui diceva che anche il Salamone fosse d'accordo a fare fuori Riina ma che il Salamone avrebbe detto tutti i difetti di Riina solo dopo la morte di Riina Io disse a Stefano Bontà di che in quell'occasione io non vedevo una cosa buona perché vedevo che lui era un uomo morto non credevo in questo atteggiamento e la mia parte fu di dire io non desidero assolutamente fare parte di questa discussione e desidero allontanarmi e non essere presente a queste cose fra l'altro ho ricevuto anche l'offerta di poter assumere il ruolo che aveva Giuseppe Calò invitato da lui stesso e caldeggiato anche da persone estranee alla provincia di Palermo come i Cugini Salmo il quale vedevano in me un mediatore una persona a cui potersi appoggiare per finire tutte queste sopprussi il ruolo di Calò qual era scusi per chiarirlo? che le veniva offerto? scusi fu invitato da Calò a fare che cosa? ad entrare in commissione al suo posto era questa la domanda presente prego e quindi queste discussioni con bontate in che anno si verificano? è nell'anno 80 esattamente l'anno 80 1980 dopodiché cosa accade? lei resta in Italia oppure va fuori? io esattamente credo che il 3, 4 gennaio 5 gennaio me ne vado in Brasile è in questo periodo che bontate invita Riina presso la propria abitazione per un pranzo con l'intento di eliminarlo ma Riina avvisato da alcuni infiltrati manda all'appuntamento Pippo Gambino e Raffaele Ganci appena il cancello si chiude bontate raggiunge la macchina convinto di trovarsi di fronte a Riina vedendo Ganci rimane molto deluso e Ganci riferisce a Riina che tutto era pronto per l'aguato in giardino vi erano almeno 15 persone armate la guerra di mafia inizia nel 1981 ad aprile con l'uccisione di Stefano Bontate inizia perché arriva notizia che Stefano Bontate Tano Badalamente dell'uccizzerillo e tante altre capre mafia volevano far fuori Totor Vena lo volevano uccidere e quindi diciamo a Totor Vena ci arrivò questa notizia Stefano Bontate era un grande uomo d'onore e voleva fare una cosa a regola di cosa nostra di ammazzare Totor Vena fare una riunione davanti a tutto il consiglio della Sicilia faceva questa riunione Stefano Bontate si alzava e gli sparava a Totor Vena davanti a tutto il consiglio Totor Vena maligno già essendo informato dalla spia Puglarà dal verme che c'era da noi non va all'appuntamento quando fanno questo consiglio Stefano Bontate viene crivellato di colpi in via Loi dai killer inviati da Salvatore Riina Riina ha avuto la meglio è riuscito negli anni a isolare Bontate a far crescere all'interno della sua stessa famiglia l'invidia verso quell'uomo così ricco e benestante Stefano Bontate lo ha sottovalutato troppo Totor Vena essendo avvelenato e insidioso ha ammazzato Stefano Bontate tutto qui Stefano Bontate era uno stratega quindi era importante colpire a lui per primo perché se si colpiva qualche altro allora noi a Stefano Bontate non lo avremmo preso più perché Stefano Bontate avrebbe fatto veramente la guerra ecco perché di questo è stato un tre abbessaglio perché una volta che è morto Stefano Bontate il suo esercito si è sciolto come la neva al sole il patrimonio del Bontate come le sue conoscenze politiche finiscono nelle mani del Riina una cassa piena di denaro e preziosi sotterrata con l'aiuto dei suoi uomini fidati viene fatta sparire dagli stessi secondo il pentito Francesco Marino Mannoia la moglie di Stefano Bontate dopo l'uccisione di questi aveva tentato in vano di recuperare parte del suo patrimonio il cognato Giacomo Vitale cercò di recuperare parte dei soldi del Bontate travasati dalle banche sindoniane al Banco Ambrosiano di Calvi ma non fece in tempo scomparendo per l'upara bianca corleonese e degli investimenti immobiliari al nord e le decine di conti esteri che fine avranno fatto magari un giorno ne parleremo dopo la morte di Bontate dopo la morte di Inserillo ci venne comunicato che la commissione aveva deliberato che tutti coloro che erano coinvolti in quel programma di rivolta da parte di Bontate e Inserillo comunque che volevano porre fine a questo potere dei collonesi di essere ricercati e di essere eliminati in qualsiasi momento se si trovassero queste persone comunque fosse nella disponibilità degli altri uomini su Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.